ciao 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 a tutti oggi sfogliamo insieme il volantino euro spin con le offerte che vanno dal 25 luglio al 4 agosto 2019 vedete già nella copertina del volantino tante offerte 50 centesimo 1 euro e 50 1 euro e 2 euro e andiamo subito a scoprire cosa possiamo trovare tanto per cominciare io adoro i fiocchi di latte li ho rivalutati è solo da poco però mi piace gustarli con un filo d'olio un pizzico di pepe secondo me è una cosa molto semplice un piattino molto semplice magari con un po di bresaola li trovo molto buoni pomodori datterini 50 centesimi polpa di pomodoro pezzetti 50 centesimi e questi appunto sono tutti i prodotti in offerta 50 centesimi ci sono anche le bibite noi non facciamo uso di bibite gassate in casa non non so a me danno l'impressione che la sette me la fanno venire invece che toglierla per cui non passo oltre qui siamo le fette a un euro ci sono tanti affettati le pizzette guardate qua 4 pizzette margherita un euro per la merenda dei bimbi magari quando fa meno caldo perché adesso accendere il forno è con 40 gradi non mi sembra il caso perché io le scaldo sempre al forno le pizze surgelate perché mettere nel microonde restano gommose non mi va un litro di olio di semi di mais sempre un euro il tris di mais il tris di barattoli di mais questo vino bianco emilia frizzante mi sembra un po pochino per un buon vino però va bene carta igienica setosa quattro rotoli in euro direi che sono proprio offerte molto 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 interessanti qui passiamo all'euro e 50 abbiamo gelati coni amarena panna e croccante barrette gelato sott'aceti carne in gelatina questo caffè sinceramente non l'ho mai assaggiato quindi non non potrei giudicare il caffè però un euro e cinquanta 250 grammi di caffè non mi sembra un pessimo affare anzi poi qui vedo che mi interessa lo smacchiatore più bianco un chilo praticamente è ossigeno attivo quello che una volta noi chiamavamo perborato di sodio dexal un euro e cinquanta birra qui adesso c'è un po di tutto dai due euro questa è la pagina dei due euro rate qua vaschetta di gelato un chilo di gelato gusti assortiti due euro questo è il momento è dei gelati direi che che ci vuole tutto qua quasi due litri di detersivo per per la lavatrice ad essenza di organ 2 euro buono qui abbiamo invece o ecco qua non devo guardare le patatine simile pringles queste 99 centesime non le devo guardare perché se le ho in casa e non le devo comprare soprattutto perché se le ho in casa non fanno in tempo entrare nel nella dispensa già sono divorate qua cosa abbiamo invece vediamo prodotti itici pescati nel rispetto dei mammiferi marini vediamo filetti di sgombro tonno all'olio d'oliva 1 euro e 99 4 scatolette di tonno 80 grammi ciascuna 1 euro e 99 bisogna poi vedere che olio è però insomma sicuramente il prezzo è interessante così come sono interessanti questi prodotti sempre itici ci sono i filetti di branzino 4 euro e 99 380 grammi code di mazzancolle filetti di merluzzo seppioline filetti di platessa e gamberi gamberi argentini i prezzi sono sicuramente invitanti qui abbiamo il reparto ortofrutta 69 centesimi al chilo l'anguria noi ne stiamo consumando tantissime in questo periodo che fa così caldo qui abbiamo la carne ma passare gli oltre perché ultimamente di carne ne mangiamo molto poca e qui via abbiamo invece il paradiso dei maschietti dei signori uomini di tutto e di più per il fai da te in casa quindi pistola d'aria calda il trapano percussione sette di punte la levigatrice la valigetta porto utensili i vostri mariti si divertiranno sicuramente qua continua la serie di prodotti mio marito potrebbe aprire benissimo un negozio di ferramenta perché ha di tutto e di più come di tutto di più per l'automobile anche qui ci sono gli set di coprisedili quello di tappetini il cuscino in memory per a questo è carino comodo e rinfrescante in che senso rinfrescante ma non lo so più qui abbiamo un po di tutto per il tempo libero e però voglio far notare alle amiche cartopazze che ci sono anche un po di cosette di cartopazia colore scrittura guardate questa valigetta la valigetta in legno con il il kit d'artista pastelli a olio pennelli matite colorate pastiglie di acquarelli matite gomma di gambe insomma tutto l'occorrente per i piccoli artisti o i grandi artisti che dir si voglia qua il secchiello di pennarelli lavabili sono 36 pennarelli giambo e 36 pennarelli fini e tre stencil 999 un bel regalo per per un ragazzino per un bambino e poi qui abbiamo invece la parte sulle vacanze perché sapete che anche con euro spin si possono prenotare le vacanze io non ho mai approfittato non so come funziona questo tipo questo tipo di offerta però se continuano a proporre evidentemente a molti interessa e questo è tutto io auguro buone spese a tutti qui c'è ancora qualcosina vi lascio vedere auguro buone spese risparmiose a tutti e vi saluto tutti con un abbraccio un sorriso ciao ciao